Welcome to MiroTV, ragazzi sono qui per la video dell'ultima puntata di NXT Una buonissima puntata, soprattutto perché si è aperta con il botto Gli O.C. hanno attaccato l'Undis Pudira Ovvero AJ Styles e i Good Brothers hanno voluto rivendicare quanto successero Rappresentando proprio il proprio roster E dopo aver attaccato l'Undis Pudira si dirigono sul ring per effettuare un promo Che viene però interrotto, clamorosamente, tra virgolette Da Tommaso Ciampa, Matt Riddle e Keith Lee Questi tre non solo nel main event andranno ad affrontare proprio Yossi Bensì anche Lee, a Inexit Cover, War Games affronteranno l'Undis Pudira Gli manca un elemento per il team, non l'abbiamo saputo a fine puntata Ma se dovessi iniziare a scommettere già da ora Direi, visto anche quello che è successo nel mio evento e ci torneremo più tardi Che potrebbe essere Johnny Wrestling il quarto componente di questo team qui Un'ottima quindi, inizio per lo show giallo AJ Styles e i Good Brothers non sono stati divadissimi da NXT Dal pubblico, scusate, di NXT, ma è giusto E mi è piaciuta questa cosa Continuo a dire che i Good Brothers e i Good Brothers sono quello che sono Ma bella, bella dimostrazione di carattere A meno per il team di Raw Perché attualmente Yossi stanno rappresentando Raw E lo stanno facendo con, soprattutto, il campione degli Stati Uniti Che è davvero tantissima roba Ci torneremo un po' più avanti su questa questione Damiel Priest vs Pete Dan, clamorosamente Dan acta un po' da irma Più che altro va a riprendere quello che è successo qualche settimana fa Andando a colpire per le parti basse il suo avversario E poi lo sottomette Un match che secondo me è stato davvero molto buono Anche questo, anche se avevo preferito quello di due settimane fa Se non sbaglio Ragazzi, è stata davvero una buonissima cosa Ovviamente Dan non è che sia tornato a dirlo Perché ha colpito nelle balls il suo avversario No, anzi, il pubblico NXT era eccitato per quello che aveva visto Una giusta vittoria, una giusta riconoscenza per Dan Che quindi si va sull'1-1 contro Damien A sorpresa, però va a trovare un nuovo nemico dopo aver battuto questo qui Ovvero, ragazzi, Killian Dain Dain attacca brutalmente Pete Dan Dopo che settimana scorsa abbiamo visto quello che è successo Questa settimana Killian Dain attacca Dan Ma non solo, va ad attaccare anche Damien Priest Non riconosce avversari Non gliene frega niente di attaccare FaceTime Alla bestia di Belfast Ragazzi, Killian Dain costruito come un vero e proprio mostro Che così proprio distrugge chiunque avanti Chissà se tutto questo ci porterà un eventuale triple treat Lì per TakeOver WarGames Sarebbe davvero tantissima roba Dubito che facciano un tag team composto da Dan e Bait Contro quei due visto l'attacco selvaggio di Dain a Damien Priest Però staremo a vedere Mi è piaciuto, mi è piaciuto Andiamo avanti Promo assurdo di Dakota Kai Che allontana la gimmick un po' da sempliciotta Fa vedere di essere tornata dall'infortunio Con tutta l'altra veste davvero incazzata Consapevolezza Al 100% dei propri mezzi Dakota Kai Continuo a dire che secondo me è una buonissima Lottatrice Deve solo aggiustare un po' la gimmick Pare che mi abbia ascoltato A me il promo di Dakota Kai Così cazzuta Mi è piaciuto Ma è citato davvero tanto Ma è citato davvero tanto E diventa una protagonista molto importante di questa puntata Facciamo un piccolo salto temporale Tanto dopo abbiamo Tainara Conti contro Santana Finalmente Tainara vince Un match anche se inutile Parliamo dell'altro match femminile Ovvero Dakota Kai contro Shaina Abbiamo già visto in passato questa contesa E Dakota Kai ce l'ha sembrata un pochino molle Qui riesce ragazzi A eseguire quello che aveva promesso nel promo Un'altra Dakota Kai Più volenterosa Di essere anche Beffarda Bastarda contro Shaina Provando un po' a fare i giochetti tattici Della campionessa Di NXT Che detiene sto titolo da 125 anni A me è piaciuta Dakota così sfacciata ragazzi Cert'è che poi però il match Va dalla parte di Shaina Che chiude la contesa Con la sua manovra Di sottomissione letale Ci ha sottomesso chiunque Quella manovra lì Giustamente Però vince lei Visto quello che poi dovrà fare A Survivor Series Però vi devo dire Che mi è piaciuto davvero molto Da Dakota Kai In questa contesa qui Promossa anche quindi Questo match Ma anche il post match Perché succede Un vero e proprio casino Visto che le donne a War Games Se lotteranno dentro Quella clamorosa gabbia Vediamo un po' Che cosa combinano Arriva il team di Shaina Che un po' a sorpresa Non ha scelto Le sue amiche Lì Le sue horse woman Ma questo è anche giusto Ragazzi Per me quelle due Non sono minimamente pronte Per una battaglia del genere A differenza di Bianca Belaira E Yoshirai Che quindi sono uniti Alla casa di Shaina Che è la capitana Ma giustamente Dall'altra parte A salvare Dakota Kai Arriva tutta la compagnia Composta da Deegan Nox Kandish Larai Anche se Kandish Poverina Appena arriva sulla rampa Viene sbattuta Contro il trono In maniera violenta Da Yoshirai E quindi si viene a creare Questa vera e propria Battaglia Quando le heal Sembrano avere la meglio Sulle face Viste sono anche Super in la numerica Data la presenza Delle amiche Di Shaina Blazer Arriva una Mia Yim Con il candlestick Che eccita tutto il pubblico E riesce a distruggere Praticamente tutte le componenti Del team heal Di Shaina Con questo candlestick Che viene sbattuto Violentemente anche Sulla campionessa Mia Yim Ragazzi a me Non dice tantissimo Però vi devo dire Che in questo segmento Si è meritata Secondo me Di essere scelta Per il team Di Ria Ripley Perché ha avuto Una grandissima ovazione Io non me l'aspettavo Da Kotakai Come è scritto lì Ragazzi È out E abbiamo vista Parecchio delusa Per questa Per questa scelta qui Di Ria Ripley Però pare aver capito Anche a giudicare Dalla sua risposta Che ha dato All'Australiana Staremo a vedere Potrebbe essere Clamorosamente Anche Un Un preludio Di un possibile Turnil di Da Kotakai Che si allea Con il team di Senna Che ricordiamo Manca Una ragazza Manca ancora Una wrestler A Shana Per concludere I partecipanti Del suo team Staremo a vedere Perché io ho visto Da Kotakai Davvero Molto molto deluso Nonostante abbia fatto Del tutto Per impressionare La capitana australiana Ria Ripley A me è piaciuta Sta gestione ragazzi Le donne NXT Stanno troppo avanti Parliamo d'altro Perché Ragazzi Tony Nese Si è ritrovato In un momento NXT Ha affrontato Il mitico Garza Che nello show giallo È davvero amato Nonostante Sia un po' Un personaggio Che per me Non può essere Completamente face Visto come si comporta Non solo all'interno Della contesa Ma anche dopo Il match è stato Abbastanza buono Forse mi aspettavo Un pochino di più Da parte di Nisse Che era tornato Un pompa magna Nello show giallo Lui per me È un ottimo atleta Ma pecca Di carisma Perché oltre a fare Non è che faccia Chissà cosa Poi senza titolo Secondo me È stato molto accantonato Non lo sto seguendo A Tufa Live Ma vedendo La sua costruzione Il personaggio Non mi sembra Essere cambiato Chissà quanto Acta un pochino Da il pure lui Ma ragazzi Il pubblico NXT Alla fine Esce felicissimo Perché Garza Batte Nisse Prende La tato shot Per un match Contro di Orash Che si farà settimana prossima E a proposito Lui Orash Si presenta sulla rampa Per stringere la mano Al suo futuro avversario Ma costui Gli va a dare una pezza In faccia clamorosa Confermando il fatto Di non essere Un face Anzi non meglio Di essere un baby face Non è assolutamente Un baby face È un face Un po' bastardino Che piace al pubblico Pure che questa cosa Che si fa dare il bacetto Che si comporta Un po' spavaldamente Piace al pubblico E vedendo un po' Cosa succederà Quindi settimana prossima Successivamente Swirve contro Djakovic Addirittura Mauro Ranaio Dice che questo È il match Più importante La carriera di Swirve Da quando è in WWE Per far capire anche Quale ruolo rivesta Da Djakovic All'interno di questa contesa Ma sembra un po' Un declassamento Che Djakovic Addirittura Non sembra più essere Manco un milk garder Però fanno un match Davvero bellissimo Bellissimo Che si chiude Con la finisce Di Djakovic Messo però alle strette In maniera importante Da questo Swirve Che ripeto Secondo me Potrebbe fare una carriera Molto molto importante Se riescono a costruirlo Anche con dei promo Il problema di sto show Ragazzi È che si fanno davvero Troppi pochi promo La gente deve promare Deve prendere il microfono in mano E parlare Se no Non si riesce ad andare avanti Ragazzi Troppi pochi promo Tantissimi match Troppi pochi promo A differenza di Dynamite Ma questa è un'altra storia Io consiglio vivamente A NXT Dall'alto della minoranza Di fare qualche segmento In più Perché ci sono davvero Tantissimi talenti Che combattono in settimana Però a livello di promo Proprio che roba Lo stesso Garza Ragazzi Lo stesso Tony Nese Lo stesso Swirve Djakovic stesso Potrebbe ancora diventare Più cazzuto Svegliamoci dai Beneventa della serata Beneventa che farà tanto Parlare di sesso Come non tanto E poi la bellezza Che è stata la contesa E vi dirò A me è piaciuta Nonostante i Good Brothers Manco a NXT Si siano riusciti a fare Una contesa decente A me non mi è piaciuto Minimamente il lavoro Che hanno fatto i Good Brothers Nonostante dall'altra parte Avessero ottimi avversari Come Ciampa Kit Lee Il buon Matt Riddle Quello che fa di più È Age Styles E lo fa davvero Perfettamente Mettendo in difficoltà Il leader Dall'altra parte Ovvero Tommaso Ciampa Bellissimo il loro scontro Su Ring Sembrano quasi Avere lo stesso peso Anche se non è così Ci ha provato Arnaio A farcelo credere Ma Styles È pur sempre Styles Nonostante io Ami follemente Ciampa Però devo ammetterlo È stato bello vedere Soprattutto loro Andare in collisione In maniera cruenta Senza risparmiarsi Nessun colpo Il match Viene interrotto Clamorosamente Si fa per dire Come al solito Da Finn Balor Balor ragazzi Fa vincere Il team Di NXT Andando a colpire Riddle Con quella che sembra Essere la sua nuova finisher Ci ha quasi ammazzato Johnny Preston Due o tre settimane fa Stavolta La fa un pochino Più avanti A Riddle Salvaguardandolo Un pochino pure Penso Per NXT World Games E lancia un pochino Lancia un chiaro messaggio A Styles Vai Distruggi ora Ciampa I due Si connettono anche Con un 2-Suite Con Balor Che come al solito Fa l'epistola Bellissimo Bellissimo segmento Quasi che ti porta a pensare Non è che Balor Andare in NXT Soltanto per favorire Il team WWE In Vistoria Su Valor Series Tempo che tu ragioni così Arriva Un certo Adam Cole Campione massimo Nelcio Giallo Che vendica Quanto successo Al suo team Andando ad attacchiare Styles Ma va a fare La sua finisher Anche a Tommaso Ciampa Scusate questo Last shot Qui Di Aralaluca Poi Guarda Balor Con un sorrisino Scambio di sguardi Importante Tra il Litterland Dispute Ira E Finn Balor La puntata si chiude così Lasciandoci davvero Tanti tanti dubbi Che sicuramente Ci porteranno a far vedere La prossima interna di NXT Così Mi è piaciuto molto Il finale I dubbi Ragà Per me Sono dubbi Ma magari Qualsotto voi Nei commenti Potete iniziare a fare Le peggio teorie Io Ne ho due tre Ma sono tutte belle Folli Soprattutto perché Tra Survivor Series E War Games Passa soltanto un giorno Staremo a vedere cosa succederà Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Quale avete ancora fatto Da Mirai è tutto Too Sweet